Rete, rete, rete! Surribattuta del portiere è andata a rete Lele! No, no, Michele, Michele! Un lapsus, Michele Daniello, il numero 10! Michele Daniello riporta in vantaggio la Vistus Castellentano. Due a uno a nostro favore, quando nel primo tempo ha pareggiato i giovanini chiedi. Stiamo giocando in un campo impame, un terreno duro, su un campo da decripe, con il vento forte. Al primo tempo avevamo il vento a nostro favore, però non l'abbiamo sfruttato. Ecco, ecco ancora un contropiede di tutto! Ah, è buono! Un'antropa laterale! Eh, svento, svento, svento! Espoli! E poi è slicing tanto perché le l personnes ingazioni riccheleβα di giovanculo, Ma cosa leggerne è vera so l'inizio è росos番llo, c' accumulation, palthierrando gli cerchi interessante ha moltov служendo anche chi whole ini. Katia, dicono, c'è qualcosa che va con l'e